Anche quest'anno, con l'approssimarsi del 6 aprile, 14esimo anniversario del sisma, c'è stata all'Università Royal la proclamazione del vincitore della decima edizione del premio Avus e la terza edizione del Master in Management post-catastrofe negli antilocali. Al centro dell'evento, oppure il dibattito Conoscere i rischi del territorio, il premio è promosso dalla Ollus, Avus è aprile 2009, presieduta da Sergio Bianchi, che a causa del sisma ha perso il figlio Nicola, studente universitario. La Ollus quest'anno ha deciso di raccontare ciò che è successo quel 6 aprile di 14 anni fa, con un cortometraggio interpretato da 4 attori ventenni, scritto dal giornalista Umberto Braccilli, con la regia di Pino Assorgi e per il quale ha collaborato anche la nostra emittente a Rete 8. Abbiamo prodotto un corto, grazie a Umberto Braccilli, per far capire alle persone la normalità e la tranquillità che si viveva in quei giorni, dovuta proprio al fatto che la protezione civile li rassicurava. E in questo video c'è anche una sorta di futuro, di progetto per il futuro, dove i ragazzi manifestavano le loro intenzioni. Purtroppo quelle rassicurazioni sciagurate hanno prodotto la morte di tante persone, il tradimento di tante persone. Un grandissimo onore per me prendere parte a questo progetto, proprio per il valore, quindi un onore assoluto, veramente. Una storia abbastanza molto toccante questa. Infatti penso che mi abbia anche aiutato ad essere più maturo, ad essere più responsabile e a guardare anche aspetti della vita con un occhio diverso. Federica Frattura si è giudicato il premio con la miglior tesi sulla prevenzione sismica. Aquilana è laureata in Ingegneria di L'Architettura all'Atene Aquilano. La mia è una tesi che parla di come pensare una nuova città dopo l'evento catastrofico del sisma 2009 e di come ridisegnare una città che funzioni, una città che abbia al centro il cittadino. Perché seppur abbiamo ricostruito in maniera materica la città, quello che è mancato è stato ricostruire quello che è il tessuto sociale ed è fondamentale.